Un discorso più celebre e più belli della Normandia è la lunghissima spiaggia di sassi grigi di Etretat perché in questa spiaggia ai lati ci sono due conformazioni naturalistiche molto particolari due archi naturali di pietra che sono stati resi ancora più celebri da due dipinti di Monet che appunto li rappresentavano. Quello che vediamo adesso fu nominato in uno scritto da Montpassant la proboscide di pietra che si getta nell'acqua. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti